non so neanche più che il giorno sia dicono sia sabato e per me non lo è il sabato dovrebbe essere un giorno di aggregazione ma pure se fosse lunedì e volesse esserlo anche questo giorno non potrebbe esserlo ad ogni modo cerco di risollevare il vostro morale o perlomeno di chi mi segue facendo una recensione delle camel gialle ieri un ragazzo mi ha dato questa questa dritta e perché no sfruttiamola ma non so essendo sincero se la fece o meno questa camel gialla mi sfugge forse le camel blu ho fatto in qualsiasi caso rifacciamolo a prescindere che l'abbia fatto oppure meno whenever wherever ma che è sciagira since 1913 camel gialle questo penso che sia il primo video che faccio per me non per voi pure l'accentino giallo filtro a macchia di lepardo cartina uguale le altre lunghezza media se sentite altre voci sono delle con mare sui balconi grazie per avermi risposto a a come si comportano le guardie negli altri centri urbani qui in ammerta sinceramente non si può fare niente il trapile a rivelo se va tutto bene è lontano lontanissimo e fumiamo che temo da fa se prima fumavamo per fare qualche views ora non so cosa faremo e penso sia la recensione più triste che da fatto mi sono fatto una corsa e prende le sigarette quindi tengo il fiatone polmoni aperti non so neanche se finirò questa sigaretta non in questo video grazie grazie grazie